ultimo aggiornamento di oggi con muoversi in toscana ancora ben trovati mauro ciutini in studio una scarpata sta bruciando in a 11 e crea difficoltà tra l'allacciamento a 12 pisa e quello con la 12 lucca la direzione quella per firenze sempre in a 11 un veicolo fermo tra prato ovest e prato est direzione firenze passiamo alla strada di grande comunicazione un chilometro di coda per lavori tra montelupo fiorentino e ginestra fiorentina in direzione di firenze in a 1 il traffico è lento tra firenze sud e incisa reggello la direzione è quella per roma ci sono ancora rallentamenti sui viali a firenze sia in entrata che in uscita città in chiusura uno sguardo al tempo domani in toscana cielo variabile al mattino aumento della nuvolosità nel pomeriggio e poi in serata torna il sereno muoversi in toscana grazie a regione toscana città metropolitana di firenze comune di firenze a domani